Oroscopo del giorno, mercoledì 19 maggio 2021 Ariete Amore In questo mercoledì le faccende d'amore vivranno una bella giornata. Per le coppie non ci saranno problemi, mentre le stelle per i single dovrebbero essere più interessanti. Chi è solo potrebbe finalmente contare su un colpo di fortuna? Lavoro Oggi potrete contare sulle stelle, potrebbero esserci delle belle novità in arrivo. Toro Amore In questa giornata la luna non sarà dalla vostra parte e questo vale a dire che potrebbero esserci i problemi nei rapporti. Occhio a come vi porrete con il partner o con una persona con cui state approfondendo la conoscenza. Meglio non esagerare. Lavoro Il discorso sul posto di lavoro sarà abbastanza simile. Attenzione agli impulsi. Gemelli Amore Questo mercoledì di maggio sarà un giorno decisamente positivo per emozioni e sentimenti. L'amore andrà a gonfiedele e le coppie potranno godersi al massimo equilibrio e passione. Chi ha il cuore libero potrebbe fare un nuovo incontro. Lavoro La luna sarà in buona posizione e potrebbe darvi una grossa mano con le vicende professionali. Cancro Amore Questa sarà una giornata abbastanza tranquilla. Se avete un partner al vostro fianco il momento sarà sereno e non avrete troppe difficoltà di coppia da dover affrontare. I singoli invece dovranno attendere un momento migliore. Lavoro Mercoledì di routine. Potrete continuare a darvi da fare con compiti e impegni professionali. Leone Amore Umore molto buono per oggi. Le stelle saranno dalla vostra parte. Il pianeta dell'amore è favorevole e vi farà vivere al meglio tutte le emozioni di coppia. Chi ha il cuore libero potrebbe provare un nuovo sentimento. Lavoro Ottime notizie pure sul lavoro dove Mercurio potrebbe portare novità e risultati. Vergine Amore Tenere non sarà troppo favorevole e dovrete prepararvi ad affrontare qualche disagio nella relazione con il partner. Nemmeno i single riceveranno buone notizie in amore. Presto ti sarà un recupero per tutti. Lavoro Sul lavoro sembra tutto più sereno e potreste essere abbastanza determinati con i vostri obiettivi. Bilancia Amore Tutto liscio in amore anche se per oggi non sono previsti grossi passi in avanti. Le stelle saranno comunque favorevoli e in tanti vivranno la giornata con passione. Presto potrebbe arrivare una grande emozione pure se non siete impegnati in coppia. Lavoro Se avete dei sogni nel cassetto dovrete continuare a lavorare sodo. Non è detto che i risultati arrivino subito. Scorpione Amore In questo mercoledì del mese potrebbero esserci degli intoppi nelle relazioni sentimentali. L'umore sarà basso e influenzerà i rapporti tanto che potrebbero nascere dei litigi. Anche i single dovranno fare attenzione a questo aspetto. Lavoro Le energie potrebbero non essere delle migliori. Occhio a come deciderete di gestirle. Tagittario Amore L'umore sarà buono e vi servirà a contrastare qualche piccolo disagio che potrebbe nascere con la vostra dolce metà. Potrete affrontare le cose con più ottimismo e il discorso varrà anche per i cuori solitari. Lavoro La luna potrebbe aiutarvi a recuperare le giuste energie in un periodo non troppo semplice. Capricorno Amore Non vi sentirete al top e anche il vostro partner potrebbe accorgersene. La giornata non sarà troppo entusiasmante per coppie o single. Per fortuna prossimamente tutto andrà meglio e potrete sperare in un recupero. Lavoro La stanchezza potrebbe prendere sopravvento. Dovrete gestire bene i vostri impegni di lavoro. Acquario Amore La luna sarà in posizione sfavorevole e con il partner potrebbero esserci tensioni e discussioni. In questa giornata potreste essere un po' agitati e non vi sentirete affatto tranquilli. Nervosismo in aria pure per voi single. Lavoro Anche sul posto di lavoro poca calma. Presto ci saranno dei miglioramenti. Ottimismo Pesci Amore Venere non sarà vostra amica e questo significa che non sarà un mercoledì rosa e fiori per i rapporti. Sono in arrivo nuove tensioni per le coppie ma pure nelle nuove conoscenze per i single o per chi si è lasciato da poco. Lavoro Potreste essere agitati Occhio a non combinare guai MIGO a non combinare guai Occhio a non basta Ed c'è la morte Com status E' in arrivo年前 Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie a tutti.